Ascoltitivo lunedì 6 febbraio 2023, Blackout Vite GF VIP, Bosin Incognito, dati Audi Teleshare. Ascoltitivo lunedì 6 febbraio 2023, qual è stato il programma più seguito dai telespettatori ieri sera? Il mese di febbraio ha preso il via da poco. Ma una nuova fredda, anzi freddissima, settimana ha preso il via. E ora non ci resta che ricominciare con la quotidianità di sempre. Anche il lunedì sera, però, è stato ricco e variegato dal punto di vista televisivo. Quale modo migliore per rilassarsi se non trascorrere la serata davanti alla tv? Anche ieri sera. Infatti, la programmazione tv è stata ricca, i telespettatori hanno avuto modo di scegliere. Tra nuove serie tv, nuove stagioni, programmi di successo, di approfondimento e di attualità. In attesa del festival di Sanremo che molti non vedono l'ora di seguire. E che debutterà tra pochissime ore. Ma qual è stato il programma preferito dei telespettatori? Cosa ha appassionato di più i telespettatori? Scopriamolo a partire dalle 10.00 di oggi quando, come sempre, verranno resi noti i dati di ascolto e share di ieri. Di tutte le principali reti televisive italiane. Ti ricordiamo che se non visualizzi i dati può essere necessario ricaricare la pagina. Partiamo dalla tv pubblica e vediamo quali sono stati gli ascolti. Su Rai Unlitro ultima puntata della Fiction Blackout Vite Sospese Conquista. 0.00 spettatori pari al percento di share. Per Rai 2 e docu reality boss in incognito piace a. 0.00 spettatori con il percento di share. Per Rai 3 invece il programma d'attualità presa diretta conquista una platea di 0.00 spettatori con il percento di share. Qual è stata invece la risposta di casa Mediaset? Su canale 5 e reality grande fratello VIP catalizza l'attenzione di. 0.00 spettatori con uno share del percento. Su Italia 1 invece il film Dea 3 e sport a casa uno share del percento a fronte di. 0.00 spettatori. Su Rete 4 Quarta Repubblica totalizza una montare di. AM 0.00 spettatori, per cento. Chiudiamo la rassegna con i restanti canali. Sulla 7 il programma d'approfondimento ed in un pianeta da salvare appassiona. 0.00 spettatori con il percento di share. Su TV8 il film In In Black, International è stato seguito da. 0.00 spettatori con il percento di share. Su 9 Viva l'Italia 2012, film, segna 0.00 spettatori, per cento di share. 0.00 spettatori. 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 0.00 aspettatori. 0.01 spettatori. G Wilder è stato attenzato dopo aver su tipo postta tuo studio, 0.00 spettatori di scrittatori magnetiche. 0.00 spettatori. Generate cheENS in lassenane danzare diWhydi. Sto